basta fate schifo fate schifo ma come si fa ma fate schifo fate schifo ma come si fa che cavolo come si fa all'ottanta ottesimo hut quel babbeo lì ma vattene a giocare da un'altra parte che perde la palla lì così su lukic si addormenta lukic va in aria percussione tutto sorpassa reina e gol ma che cavolo ma cosa fai hut ma vattene da dove ma ritorna da dove sei arrivato ma vava ma cosa fai siamo al 92esimo 5 minuti di recupero ma perché 3 a 2 col turino non ci credo che era anche un ultimo barra penultimo in classifica aveva un punto ma come si fa ma andate ma come dai che schifo che schifo si è delle pippe si è delle pippe ma perché che cavolo c'è intanto quindicesimo in gol di andrea sperera stavano giocando bene poi subito il diciannovesimo bremer pareggio venticinquesimo rigore di belotti ma rigore di belotti si è buttato si è buttato andrea sperera non l'ha toccato minimamente quello si è buttato e l'arbitro cosa fa dal rigore ma eppure peggio di giacomelli quell'arbitro eppure peggio di giacomelli dai però ma non era rigore un cavolo infatti lì mi sono arrabbiato mamma mia poi al 48esimo pareggio di milinkovic punizione al bacio di milinkovic savic sirvo non può arrivare vicino al palo ma l'87esimo ma perché che si addormenta ma cosa fai vuoi mangiare un gelato ma che cappero ma come si fa ad addormentarsi lì così ma dai 5 minuti recupero che caos siamo il 93esimo ma dai ma come si fa ma come si fa avergognatevi fare schifo altri punti importanti persi e altro che scudetto quest'anno quest'anno retrocessione altro che scudetto retrocessione quest'anno ma come si fa e questi pensano alla champions ma va ma quale champions ma andate via ma siamo 400 mila punti sotto la capolimista ma va 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 che cavolo la juve sta vincendo facilmente 4 1 con lo spezia doppietto di ronaldo che è tornato ma in questo momento non ci interessa ma che cavolo però al 94esimo ma andate via chi fia viene richiamato dal varri il tiro di immobile andato sbattere sul braccio di un culo e speriamo c'è dai però fii come si fa come si fa che cavolo c'è 3 2 coltolino c'è anche qua abbiamo giocato male che cavolo dai dai sto rigore ti prego che tra l'altro sul rigore di belotti manco è andato a vedere il var ma se il var chiude alle 6 vai a vederlo che cavolo c'è non sono ancora le 6 mamma mia e mi hai richiamato dal var dai dai sto rigore ti prego ma che cavolo ma che cavolo ma che cavolo ma fate schifo 95esimo eh ma se c'è ancora sta roba del rigore c'è che capperi ma dai che schifo siete nelle pippe che schifo fate schifo e quindi sto rigore lo dai non lo dai cartellino giallo nicolas culo rigore è rigore giallo di un culo rigore rigore si si rigore è rigore ragazzi oh ma cosa aspetta dirlo quindi rigore sembrerebbe 3 a 3 3 a 3 dato ciruzzo dal dischetto sì ciruzzo mamma mia guardate no c'è andata bene c'è andata bene c'è andata bene mamma mia mamma mia c'è andata bene fate schifo lo stesso però 3 a 3 mamma mia mamma mia che sofferenza mamma mamma mia mamma mia vabbè ragazzi qua aspettiamo la fine della partita ma che cavolo ma no meno male c'è andata bene c'è andata bene oh madonna dai che finisca sta partita morca miseria spezia io è finita dai che finisca sta partita maledetta rigore di immobile spiazzato cirgo immobile firma il gol dell'ex mamma mia dai fischio 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 97esimo che 97esimo ma dove lo vedi ma vai fischio 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 la fine della partita no io non attendo più di così basta no ora finisce il video cioè ragazzi scusate prima non vi ho salutato ma che cappero però cartellino giallo arnando mammali lui la pieni soldi che cavolo dai quando finisce sta partita basta 98esimo ma dove ma dove che cavolo Basta, è finito Basta Dov'è che è finita 3 a 4 3 a 4 Come 3 a 4 Caicedo Caicedo 3 a 4 Caicedo, non ci credo Non ci credo Non ci credo 3 a 4 Caicedo, 3 a 4 E finisca ora, no, non ci credo Non ci credo, non ci credo mai 3 a 4 No, non è possibile Caicedo, caicedo Caicedo, non ci credo Non ci credo Ma qua è il 99esimo, basta, basta Basta, basta Col Felipe, salvador, caicedo Mi schienare, granata, sbucca, caicedo Zampata oltre Sirgo Basta, è finita Basta Codi, caicedo Basta, ora è finita Basta Ti prego, è finita Ti prego, è finita No, fischia 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 Ma è incredibile Sta qua Fischia 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 la fine Fischia la fine Fischia la fine di questa partita Fischia Arbitro Non ci credo Non ci credo Fischia 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 la fine Fischia Fischia la fine di questa partita Ma come centesimo Ma dove, ma dove Centesimo minuto Ma dove Cartellino giallo Ma perché giallo Ma dove Dove centesimo minuto Fischia la fine Fischia Fischia No, basta Fischia Basta 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 Fischia Basta Basta Fischia la fine della partita Ti prego Ma quanto è lungo sto video Finita È finita Sì È finita È finita È finita Sì, ragazzi È finita È finita Ciao, ragazzi Ciao, ciao